Eramo in un ristorante di giapponese, sushi, perfetto, allora arrivo con bella macchina, bell'orologio, giacca, non come oggi ma una coppia di oggi, era un altro budget però va bene. Va bene, entro con Mino da solo, lui fa ordine di sushi però per otto persone, arriva sushi dopo sushi, ho detto ma chi mangerà questo? Non ti preoccupare, ci penso io, inizia inizia e poi porta fuori, parliamo di tante cose, va bene, porta fuori i fogli, giocatori tipo Bobo Vieri, 25 partite, 20 gol, 3 seghe, 23 partite, 21 gol, Cevchenko, Filippo Insaghi, tutti questi campioni che avevano statistica differente da Ibracadabra.